Oggi parliamo di controllo della interazione, che dal punto di vista della teoria è l'ultimo grande argomento che affrontiamo e dedicheremo a questo tre lezioni teoriche e poi una esercitazione. Non parliamo di controllo di droni, che non fa parte dell'argomento del programma. Allora, vediamo un attimo, interazione. Che cosa significa interazione? Beh, quali sono le situazioni in cui il nostro robot si trova ad interagire con l'ambiente? Sono tante, sono tante e sono alcune intenzionali, alcune no. Per esempio, in alcuni casi io ho bisogno di interagire con una superficie in maniera tale da eseguire proprio delle operazioni, per esempio di pulitura, di debarring, adesso lo dico in inglese, oppure di assemblaggio fra dei pezzi. In altri casi io interagisco non tanto con l'ambiente, ma in qualche modo con un operatore. È il tipo di controllo che si chiama telemanipolazione, in cui ho un master-slave. L'operatore guida un master, che è un modello del mio robot, che può essere fisico, e lo slave è il robot e c'è un'interazione di forze fra i due, perché può essere di beneficio per l'operatore percepire le forze che percepisce lo slave, ossia il robot. Oppure la cooperazione fra diversi sistemi robotici, la cooperazione per raggiungere un obiettivo comune. Immaginate che voi dovete trasportare un oggetto che pesa X chili e i vostri robot hanno una capacità di payload che è inferiore rispetto ad X, e allora voi potete pensare di metterne più robot insieme per fargli raggiungere lo stesso obiettivo. Allora, ad esempio vi faccio vedere un piccolo video di un articolo che abbiamo pubblicato l'anno scorso, in cui, un attimo che sta dall'altra parte, in cui il Giuseppe Gillini è il primo autore, che è il ragazzo che è con noi in laboratorio come studenti di dottorato, con il professore Richiello e il professor Marino, che sono i nostri professori per cui li conoscete, e Martina Lippi, dottoranda di Salerno, col professor Marino ha continuato a collaborare, Francesco Verri, che è un collega dell'Università della Basilicata, con cui abbiamo lavorato e lavoriamo ancora molto frequentemente. Allora, vi faccio vedere solamente, questo è un articolo con cui Giuseppe è stato finalista per il Best Paper, pubblicato da un young author, come primo autore, questo, diciamo, l'argomento dell'articolo è sull'individuazione di guasti distribuita, vi faccio vedere però solamente la parte, così, della applicazione, quindi semplicemente, fra virgolette, perché non è semplicissimo, che cosa intendiamo per controllo dell'interazione, questa è una delle possibili pratiche di controllo dell'interazione, per cui quando, per esempio, dei robot collaborano per distribuire un peso fra di loro. Poi qui c'è la parte di rottura del robot e lasciamo perdere. Altro caso che non riguarda l'argomento, diciamo, di questo corso, sono le mani robotiche. L'argomento mani robotiche è un argomento molto ampio, molto vasto, c'è molta ricerca, per esempio, questo è un argomento in cui noi, come gruppo, non l'abbiamo mai lavorato ed è anche molto, molto interessante, perché come prendere un oggetto avendo a disposizione più dita, ce ne sono tipicamente tre nelle mani destre, se sono due con un grado di libertà, lo chiamiamo pinza, non lo chiamiamo mano, però con tre e con qualche grado di libertà è una mano e si possono fare tante belle cose. Oppure, diciamo, l'identificazione di contorni tramite la forza e o la velocità e la visione, va bene? In maniera tale che voi potete proprio misurare il profilo 2D o 3D di una superficie. Qui ho preparato un piccolo video con un po' di applicazioni, un attimo che levo l'audio, ok. Fatemi ripartire dall'inizio, ok. Ho preparato un piccolo video, ho messo insieme un po' di applicazioni scaricato da Internet e l'ho composto, in cui potete vedere che cosa sta succedendo. Alla luce della proprietà della dualità cinetostatica che voi avete studiato, questo significa che queste forze e momenti che agiscono all'organo terminale del robot, in questo momento vengono anche proiettate ai giunti, ok. In alcuni casi, questo è un robot industriale, la forza che sta scambiando adesso è abbastanza limitata in questo video, probabilmente i giunti non se ne accorgono proprio, però bisogna fare attenzione. Questo è un sistema aptico, cioè in questo momento l'operatrice sta percependo una forza di ritorno mentre fa l'operazione virtuale. Qui c'è un'operazione di assemblaggio, per cui palesemente c'è un'interazione. Anche se sono più veloce io a montare i mobili Ikea che non questo robot. Questa è un'applicazione per esempio con una mano, Pratikiz è un collega di Siena, è molto bravo, e in questo caso come vedete ci sono quattro punti di contatto con questo oggetto morbido e chiaramente ci stanno esprimendo delle forze sull'oggetto. Adesso non è tanto importante cosa fanno, è solo per far vedere l'applicazione. E infine questa è l'applicazione in cui questo robot, piuttosto datato questo video, in cui questo robot sta misurando il profilo di questa superficie che non era noto in anticipo, con un sensore di forza. Ok, quindi questo è giusto per darvi un po' l'idea. Ma continuiamo a fare un discorso ancora introduttivo. Che cosa ho fatto? Ho raccolto queste tre pagine dal materiale, un materiale divulgativo di un corso della Universal Robots, che è un'azienda danese, in cui spiega che cosa intendono per cobot, cioè per collaborazione tra robot e operatore. Allora, loro fanno vedere qui i differenti tipi di operazioni collaborative, in cui l'operatore, se vedete, può o meno essere all'interno dello spazio di lavoro. Allora, in questi due casi sopra, l'operatore è all'esterno dello spazio di lavoro, il concetto di collaborazione è abbastanza lasco, nel senso che più che altro dà dei comandi al robot. Invece, in basso a sinistra, cominciamo a vedere una possibilità, che è la possibilità per l'operatore di entrare all'interno dello spazio di lavoro. Qui ancora non c'è contatto. E il robot si muove in base anche alla posizione e al movimento del operatore e addirittura alle intenzioni di movimento. Questa è un'attività su cui, per esempio, noi abbiamo, scusate, non è questa un'attività, questa è un'applicazione su cui noi abbiamo fatto delle attività e vi ho fatto anche vedere dei video, alcuni avete riconosciuto, Paolo, che entrava nello spazio di lavoro e il robot cambiava la sua traiettoria o si fermava, insomma, evitava il contatto. Dopodiché, in basso a destra, c'è invece un altro tipo di collaborazione in cui c'è uno scambio fisico di forze, intenzionale. Per cui, guardate che dal punto di vista del controllo, questa è una cosa che per voi è totalmente nuova, perché fino adesso, per noi, una forza esterna che agisce nel nostro sistema di controllo è un disturbo da reiettare. Bene. Ora, reiettare significa spingere via, significa compensare, significa annullare. Per cui, se questo è il mio robot e la mia mano è la forza esterna, io mi appoggio all'organo terminale del robot e lo spingo verso il basso, questo è un disturbo, che agisce a livello di forze. Quindi nel ciclo di controllo agisce fra il controllore e il processo. Che cosa fa il controllore? Che vuol dire che l'oreietta, vuol dire semplicemente che mi spinge via e torna nella sua posizione. Quindi, se io metto la mano su un robot industriale, quindi particolarmente rigido, io a stento riesco a muoverlo, perché il ciclo di controllo è tarato in maniera molto, molto rigida, vuol dire con guadagni molto, molto alti, per reiettare tutto, e io non riesco neanche a percepirlo, nel senso che lo muovo di mezzo grado, va bene, sicuramente c'è uno scambio di forze, ma è talmente piccolo che a me sembra ferro nel robot. Quando invece vado su un lightweight, come quello che abbiamo in laboratorio, la sua struttura meccanica mi permette di percepire un certo spostamento. Però comunque il controllore sta reiettando la mia forza. in realtà il passo successivo che cominceremo a fare oggi è quello di dire va bene, ma tu se stai scambiando la forza in maniera intenzionale, forse la cosa migliore non è che io reietti la tua forza, forse la cosa migliore è che cerchiamo un nuovo paradigma di controllo per capire se vogliamo fare qualcosa fra virgolette insieme. Oppure, se c'è un urto non intenzionale, magari io non devo per forza reiettare, quindi per forza rispingerti contro, ma magari io assecondo l'urto e l'operazione che sto facendo, qualsiasi essa sia, la metto in secondo piano rispetto al fatto che io non ti devo alla fine ammazzare, perché questo può essere la conseguenza di una reiezione in un ambito industriale. Infatti, nelle isole robotiche in ambito industriale, voi avete spesso la cella che ha una porta elettrificata, nel senso che se voi entrate nella cella, almeno diciamo nei setup industriali forti, voi entrate nella cella, voi levate automaticamente la corrente ai motori, per cui non ci vogliono proprio l'operatore all'interno della cella robotizzata. Già da parecchi anni però, l'utilizzo dei sensori consente di fare altre cose, ad esempio, e questo l'abbiamo visto quando siamo andati alla Fiat qui a Piedimonte, un'operazione da fare sul pianale dell'automobile richiedeva da un robot a un grado di libertà di alzare il pianale in maniera tale che l'operatore in posizione diciamo verticale possesse fare delle operazioni. quindi voi dovete immaginare questo alla fine è un pendolo inverso, un robot a un grado di libertà che alza il pianale un oggetto che pesa qualche centinaio di chili. Se l'operatore diciamo si fosse trovato lì vicino le conseguenze sarebbero state drammatiche ma invece di isolare tutto quanto quello che hanno fatto è stato di confinare tramite dei sensori una regione in cui non ci può essere l'operatore e quando l'operatore è in quella regione il robot non si muove quando il operatore esce da quella regione allora il robot fa il movimento che deve fare. Oltre a questo hanno messo diciamo dei confini colorati per l'operatore per cui questo è un tipo diciamo di collaborazione come questa qui in basso a sinistra mentre in realtà oggi vogliamo parlare dell'interazione fisica. ok allora questo è un materiale diciamo divulgativo ma continuiamo a vedere che cosa intendono loro per le specifiche tecniche ISO relative ai contatti le prime ricerche che sono state fatte in robotica per cercare di capire il contatto e di quantificare il contatto hanno preso spunto da tutto il lavoro che era già stato fatto nell'industria automobilistica per quantificare i danni in seguito agli incidenti ci sono delle metriche che sono essenzialmente legate al fatto che considerazioni di meccanica di energia cinetica abbastanza fra virgolette semplici di decelerazione e così via e ci sono delle metriche per cui l'impatto quali sono le conseguenze dell'impatto sul corpo umano adesso non entriamo in questo perché è solamente introduttivo questo loro hanno individuato due tipi di contatti che è quello quasi statico e il transitore il quasi statico lo dice la parola stessa e significa che tipicamente può succedere quando per esempio io qua il disegno in alto vedete no io metto la mia mano e il robot deve poggiare su una superficie su cui il robot magari deve andare a poggiarsi per cui cosa succede che siamo fermi però il robot sta eseguendo sta imprimendo una forza su di me va bene invece il transitorio è un urto mentre sto camminando proprio il concetto di transitorio e qui vedete in questo grafico le forze che possono essere tollerate poi ci sarà una classificazione in base alle varie parti del corpo in cui nell'asse delle ascisse c'è il tempo e nelle asse delle ordinate c'è la forza o la pressione ok quindi newton oppure newton diviso metro al quadrato che cosa è stato individuato beh sono stati individuati due livelli diversi nel senso che io un transitorio posso tollerare un picco di forza un po' più alto nel quasi statico in cui do per scontato che quella è la situazione e io rimango con la mano bloccata là sotto per un po' di tempo chiaramente la forza è più bassa quindi ci sono dei livelli di forza che possono essere tollerati che cambiano in base alle parti del corpo e qua abbiamo le varie parti del corpo con i numeretti ovviamente non entro adesso nel dettaglio di questi numeretti che sono quasi statico e transitorio e questo viene dato come multiplier come multiplicatore quindi il fattore è il fattore 2 va bene ci sono tutte le body region qui l'ultima colonna ci sono tutte le parti del nostro corpo poi vengono vengono dettagliate e ci sono la massima pressione e la massima forza per il quasi statico e per il transitorio di fatto loro nel transitorio non so se si legge perché il fonte è piccolo però moltiplicano per due le forze del quasi statico e questo è la loro diciamo ho estratto solamente tre pagine da una presentazione in un in un corso professionale di questa azienda va bene giusto per farvi capire come loro introducono il concetto di Cobot perché mi è sembrato molto adatto e molto utile ok ma cosa faremo in queste tre lezioni beh in queste tre lezioni noi vediamo alcuni tipi di fra virgolette di controllo in realtà vedrete che la famiglia di controllo sono essenzialmente due va bene e quello che vediamo oggi è il cosiddetto controllo di cedevolezza in qualche modo controllo di cedevolezza starà a significare non controlliamo nulla diciamo vediamo che cosa succede senza fare troppi sforzi in realtà la prossima volta cominciamo a vedere il controllo di impedenza e cerchiamo di capire un po' meglio come io posso cercare di come posso cercare di progettare l'interazione fra me e il robot lo scambio di forze questo ve lo farò vedere in laboratorio l'11 dicembre poi vediamo insomma i vari tipi di argomenti poi li vediamo pian piano ok allora è chiaro che quando io interagisco con l'ambiente l'ambiente sta in qualche modo vincolando il mio movimento è abbastanza diciamo ovvia questa cosa se c'è un muro non posso andare oltre il muro ma se io allora applicassi una legge di controllo puramente posizionale che cos'è quello che avete fatto fino adesso in controlli quello che avete fatto in teoria di sistema quello che avete fatto in robotica fino adesso cioè ignoro completamente la possibilità di un urto e allora posso avere delle conseguenze non piacevoli che adesso vedremo va bene che cosa significa io ho bisogno di gestire l'interazione quando c'è e questa è una cosa tipicamente robotica va bene è un argomento che caratterizza la robotica molto rispetto ad altri argomenti di controllo quindi le due diciamo le due strategie di controllo sono essenzialmente quello indiretto in cui io in realtà non vado a chiudere proprio un loop di controllo di forza capiremo fra poco che vuol dire cioè io non do un riferimento di forza e dico guarda tu devi esercitare una forza di 10 Newton in questa direzione quando parlo di Newton noi diciamo abbiamo poca confidenza con i Newton che è l'unità di misura del sistema internazionale però poiché facciamo tutti la spesa noi abbiamo abbastanza confidenza con i kg quando voi fate il confronto Newton chilogrammi pensate che è un fattore 10 va bene perché la differenza è la costante di gravità è l'81 quindi se io vi dico di esercitare una certa forza in Newton in una certa direzione beh questo va sotto il nome di controllo diretto dell'interazione in cui io devo chiudere proprio un loop di controllo di forza invece quelli che cominciamo a vedere sono quelli in cui io voglio controllare l'interazione ma non tanto il valore della forza l'interazione è intesa come proprio la funzione di trasferimento dell'interazione ora cominceremo a parlare di questo va bene quindi essenzialmente sono queste le due famiglie di controllo della interazione che noi studieremo allora voglio cominciare con il caso a un grado di libertà un punto materiale perché perché voi vedrete che dopo compariranno tutta una serie di simboli no avremo un altro jacobbiano ci sarà l'orientamento che come sempre ci darà fastidio dal punto di vista notazionale se io almeno all'inizio partivo direttamente con il caso con tutti i gradi libertà vedevo che c'era un certo attrito il primo distacco da parte degli studenti invece partiamo da quello a un grado di libertà perché il concetto si capisce a un grado di libertà allora a un grado di libertà significa che io posso scrivere forza uguale massa per accelerazione va bene e questo è uno scalare è un grado di libertà è tutto scalare a questo punto progetto il mio bravo controllore come lo progetto il controllore beh immaginiamo che io progetto un controllo guardate questo è il controllo a compensazione della dinamica ve lo ricordate esattamente questo perché non c'è la gravità non c'è il sacro dell'eccentripeta e questa è la matrice di inerzia questo è il segnale ausiliario y per cui io ho applicato il controllo a compensazione della dinamica nel caso scalare ok applichiamolo e che cosa succede beh è a ciclo chiuso vado a sostituire questo qui la m la semplifico porto x al primo membro a ciclo chiuso al secondo membro e poi porto tutto al primo ho una bellissima equazione differenziale del secondo ordine lineare ai coefficienti reali e costanti cioè le più semplici che conosciamo che abbiamo già studiato in fondamenti di sistemi dinamici di cui abbiamo fatto l'analisi modale sappiamo tutto di queste equazioni e sappiamo che kv e kp sono alla fine ho uno come coefficiente dell'accelerazione kv e kp sono i miei parametri del progetto con cui io posso mettere i poli dove mi pare ok perfetto e questo mi piace molto cioè è quello che però a questo punto immaginiamo che ci sia un contatto cos'è un contatto? beh c'è una forza esterna F questo è il contatto come cambia la mia equazione? la mia equazione cambia perché ho massa per l'accelerazione è uguale a U-F in cui U è sempre il mio controllo e F è questo contatto questa forza esterna ok però il mio controllore è lo stesso di prima quindi adesso lo vado a scrivere e ottengo questa equazione qua guardate che cosa posso dire di questa equazione è che se io ho F uguale a 0 poi divido per M e ottengo quella stessa di prima giusto? quindi non è cambiato è la F che adesso mi sta dando un attimo un qualcosa di diverso e questa equazione adesso io però la posso leggere e la lettura mi cambia un po' rispetto al caso precedente allora se io ho un contatto con l'esterno dal punto di vista dinamico questo entra in gioco in questa equazione differenziale come un ingresso ausiliare ok però guardate la cosa che mi dà fastidio mi dà molto fastidio è che adesso i coefficienti dell'equazione differenziale non sono gli stessi dell'assenza di contatto e in particolare io ho una M su cui io non ho possibilità di agire che influenzerà il coefficiente a con 0 e questo mi sta limitando nella mia possibilità di progettare il controllore perché questa M non la posso arbitrariamente modificare quella fisica e quella del punto materiale c'è un'altra cosa che mi dà fastidio è che i guadagni del controllo stanno cambiando con e senza contatto per cui il comportamento del mio sistema dinamico a ciclo chiuso cambierà con e senza contatto e questo non mi piace molto infine immaginiamo che questo sistema vada a regime quindi è asintoticamente stabile io ho che x tilde punto e x tilde 2 punti saranno nulli perché si è fermato tutto e quindi la mia posizione di riposo sarà questa che cosa significa che io ho questa posizione di riposo pensiamoci un attimo significa che x tilde a regime non sarà uguale a 0 cioè io non vado nella posizione desiderata perché c'è una forza che mi dà fastidio è perfettamente coerente con quello che avete studiato in fondamenti di automatica perché questo significa molto semplicemente che un sistema di tipo 0 ha un errore finito a regime perché avete che c'è un disturbo esterno che vi allontana dalla posizione desiderata però dove va a finire questo x tilde cioè questo x se voi guardate questa è l'equazione di una molla virtuale cioè un coefficiente per uno spostamento uguale a una forza significa che questa è una molla virtuale questa molla ha una rigidezza che non è solo il kp del progetto mio del controllo che mi andrebbe anche bene se fosse solo così ma è m per kp per cui c'è sempre quella m su cui io non posso fare niente perché è quella fisica ok allora questa interazione con l'ambiente in questo sistema non è che mi sta dando tutte queste belle notizie cioè è la prima volta che studio questa interazione io la f questa f qua l'ho già studiata come come se fosse un disturbo in controlli però io adesso la sto rivedendo da un'altra ottica un'ottica robotica e quello che vedo a me non piace bene non riesco a gestire bene un'interazione in questo modo giusto un aspetto notazionale se io dico k per x tilde uguale a f allora k è la rigidezza l'inverso di k si chiama cedevolezza è esattamente la stessa cosa ci sono due parole per lo stesso coefficiente bene ok a questo punto diciamo vediamo il caso full dimensional e vediamo perché che pagina questa dice e vediamo quali sono i problemi che ci porta ok allora vediamo il caso full dimensional prima di tutto noi ricordiamo che con h con e intendiamo forse momenti fisici all'organo terminale per cui la forza in newton nel momento in newton metri che sono quelli che posso eventualmente scambiare con l'ambiente per cui la mia equazione che rappresenta il movimento del robot è quella che abbiamo studiato quando abbiamo fatto la modellistica e quindi abbiamo e quindi è un insieme di n equazioni non lineari accoppiate va bene configurazione dipendente abbiamo massa per accelerazione corioli e centripete attrito viscoso quello statico non lo consideriamo per semplificare le cose abbiamo la gravità u è il mio ingresso e qui c'è l'interazione con l'ambiente meno g trasposso h con e in cui questo qui è diciamo lo jacobiano questo qua è lo jacobiano geometrico va bene ora che facciamo assumiamo di utilizzare come legge di controllo la pd più compensazione di gravità per cui una legge di controllo puramente posizionale ignorando completamente che ci sia una forza all'organo terminale allora che cosa ottengo io se io applico questa legge di controllo io poi posso supponendo che di trovarmi a regime posso considerare vabbè q2 punti uguale a 0 perché faccio l'ipotesi che sono a regime quindi q punto uguale a 0 q punto uguale a 0 poi semplifico la gravità a sinistra e a destra sto facendo l'ipotesi di conoscere perfettamente il mio modello anche questo qua è uguale a 0 perché ho fatto l'ipotesi di essere a regime e per cui che cosa rimane beh rimane solamente g con a trasposto kpx tilde meno g trasposto h con e quindi rimane solamente questo qua lo porto porto uno dall'altra parte ok ora facciamo l'ipotesi che lo Iacobiano sia rango pieno leviamoci un attimo adesso dall'eventuali singolarità cinematiche e ricordiamo ma già diciamo lo sappiamo che lo Iacobiano geometrico è legato a quello analitico tramite un'opportuna matrice di trasformazione t 6x6 in cui in alto a sinistra abbiamo una matrice identità poi abbiamo due matrici nulle 3x3 e poi abbiamo una matrice 3x3 di trasformazione che funziona nell'orientamento dell'organo terminale ok e quindi questo significa che lo Iacobiano analitico e lo Iacobiano geometrico differiscono fra loro solamente per la parte di orientamento per la parte di posizione sono la stessa cosa ok abbiamo diciamo ricordato queste cose a questo punto io posso esplicitare x tilde e moltiplicarlo per kp a meno 1 immaginando ovviamente vabbè kp a rango pieno perché controllo e quello che io ottengo è diciamo questa equazione qui ok un attimo solo ho semplificato lo Iacobiano va bene questo magari andava andava detto ho semplificato l'Iacobiano a destra e a sinistra ora kp a meno 1 per che quindi a questo punto questo si chiama cdevolezza per questa matrice di trasformazione per h con e lo chiamo lo definisco h con a quindi sono forse momenti chiamiamoli analitici all'organo terminale che come tutte le cose che abbiamo detto questa non ha adesso un'interpretazione fisica l'interpretazione fisica rimane in h con e e quindi questo significa che alla fine io ho in qualche modo una molla va bene perché ogni volta che io ho una espressione del tipo forza è uguale a k per spostamento questo qua è una molla in questo caso io ho ancora lo stesso concetto in cui ho una molla x tilde uguale vabbè k adesso al secondo membro per una forza generalizzata quindi dal punto di vista diciamo concettuale io non sto introducendo nulla di particolarmente diverso rispetto a quello che ho fatto in fisica solamente che questo questo vettore di forza va un attimo capito nel senso che ha tre componenti di forza lineare e poi c'è questa forza analitica questo momento analitico però concettualmente è la stessa cosa questo k-1 si chiama celevolezza ora c'è la parola attiva perché la parola attiva nasce dal fatto che è legata al controllo passiva è quella invece dovuta alle proprietà meccaniche dello strumento e adesso vedremo quando si usa anche quella passiva vi faccio vedere un'altra allora che cosa ottengo perché questo tipo di legge di controllo a me non piace vi dico subito che non mi piace ho fatto finta di ignorare l'interazione ho usato un pd più compensazione di gravità e scopro che a regime io vado in questa configurazione però questa configurazione qua a me non piace e ora cerchiamo di capire perché immaginando di prendere una k con p diagonale questo tipo di cedevorezza è indipendente dalla configurazione per quanto riguarda le forze perché evidentemente diciamo questa relazione k p a meno 1 è diagonale e h con a le prime tre componenti sono uguali però per quanto riguarda per quanto riguarda i momenti è configurazione dipendente da cosa vedo che è configurazione dipendente beh io lo vedo ritornando a questa relazione qua allora k p a meno 1 se è diagonale significa che questa qua è una matrice in cui ho qua gli elementi diagonali e qua tutti i zeri e poi devo scrivere t con a trasposto t con a trasposto è questa qua per poi chiedo scusa torniamo qua è questa qua per h con e che abbiamo detto ha una componente di forza e 1 di momento ok quindi che cosa significa significa che io sto andando a moltiplicare diciamo questo per questo per quanto riguarda la componente di momento e significa quindi la cedevolezza del mio robot cambia in base all'orientamento dell'organo terminale questo non è accettabile dal punto di vista del progetto del controllo perché semplicemente io ho un controllore che si comporta in maniera diversa se io devo fare un lavoro in questo organo terminale con questo orientamento piuttosto che con questo piuttosto che con questo con questo si comporta in maniera diversa è un sarebbe un incubo dal punto di vista diciamo della progettazione di una operazione per esempio di un compito meccanico perché cambia sempre il suo comportamento assolutamente contro qualsiasi principio di progettazione ok per cui dobbiamo cercare di fare qualcosa guarda se invece faccio vedere un'altra se invece il se invece la 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 mia matrice j diciamo ha un nullo diverso da zero allora in quel caso noi potremmo avere errore nullo anche con h con e diverso da zero perché questo vabbè questo lo vediamo da questa equazione qua perché molto semplicemente se h con e appartiene al nullo allora qui abbiamo un forzamento zero quindi alla fine otteniamo x tilde uguale a zero e che cosa significa questo guardiamo questo manipolatore che è una configurazione che abbiamo imparato a riconoscere che è una configurazione singolare ok una forza che agisca per esempio in questa direzione semplicemente non sta eccitando nessun grado di libertà nessun nessun movimento lungo i giunti ma viene assorbita dalla struttura vabbè ve la faccio più semplice sempre il manipolatore a due bracci una forza in questa direzione qua viene assorbita dalla struttura quindi se io volessi veramente andare proprio in questa posizione a quel punto la forza non mi dà più fastidio chiaro però vabbè è bene saperlo però non possiamo fare affidamento su questo allora vi faccio vedere brevemente la 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 qua questa non ci deve stare passive compliance vi faccio vedere brevemente la cedevolezza passiva e poi facciamo una pausa allora vi ho detto che la cedevolezza passiva si ha quando è una proprietà diciamo dei materiali delle trasmissioni ma non è intenzionale chiedo scusa non è del controllo è intenzionale nel senso che ce lo mettiamo noi gli elementi elastici però non è del controllo ok e quindi non la posso cambiare allora io come ve la faccio vedere cerco di farvela vedere nel momento nel modo più semplice possibile se io ho due corpi che sono in accoppiamento elastico fra di loro cerchiamo di generalizzare il concetto di 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 molla se io ho due punti che sono in accoppiamento elastico la forza che scambiano dipende semplicemente dalle deformazioni forza lineare che dipende solamente dalle deformazioni del punto di contatto ma se io ho due corpi che sono in accoppiamento io posso immaginare deformazioni lineari che mi danno quindi delle forze lineare ma anche di momento angolari va bene per cui questo significa che io posso immaginare che ha uno piccolo uno spostamento elementare di posizione o di orientamento e lo spostamento di orientamento abbiamo già visto che lo esprimiamo come velocità angolare per dt però adesso non è importante diciamo uno spostamento elementare di orientamento corrisponde una diciamo matrice di rigidità quindi diciamo la molla che moltiplica le forze che stanno scambiando cosa significa questo? che voglio farvi vedere che la matrice di rigidità è una matrice 6x6 è definita positiva per questioni fisiche altrimenti diciamo inventate il moto perpetuo ed è una matrice che può essere piena cioè non è diagonale però è definita positiva ok che cosa posso fare io come progettista? beh io posso progettare un organo terminale che mi aiuti a diciamo fare per esempio un assemblaggio dandogli delle certe proprietà di cedevolezza o di rigidità e che cos'è questo? guardate questo disegnino e vi rendete conto che molto banalmente significa costruire un organo terminale che faciliti l'assemblaggio l'accoppiamento che magari è cedevole da una parte ed è rigido dall'altra questo diciamo ve lo riporto per completezza ma noi non ci occupiamo di questo in questo corso è un argomento da progettazione diciamo dei colleghi meccanici gli organi terminali non li progettiamo sicuramente non in questo corso però concettualmente il concetto di interazione di sfruttare la cedevolezza o la rigidità che sono due concetti equivalenti è ben noto e si chiama passivo quando è legato alle proprietà meccaniche e non è quindi configurabile progettabile non lo posso cambiare da operazione ad operazione mentre si chiama attivo quando lo lo imponiamo noi col controllore va bene quindi la la cedevolezza attiva la vediamo subito dopo la pausa adesso ci fermiamo con questi primi concetti avete domande su quello che abbiamo visto fino adesso?